Ciao gentile pubblico, benvenuti agli extra di Super Paper Mario Questo primo extra è uno un po' particolare che non sapevo bene dove mettere Quindi ho deciso di tenerlo per conto proprio in un solo video e metterlo come primo Perché è una cosa che probabilmente mi servirà per le altre parti extra o per alcune delle parti extra Comunque, se dopo aver finito il gioco, la storia principale insomma, tornate a livello 3-4 Che se vi ricordate la casa di un nostro caro carissimo amico, il volume è altissimo Oh, sorry Gino Dello, non distrovarmi ora Siamo a Forte Gino, dobbiamo andare a trovare il caro Gino Leonte Lo rivediamo per una terza volta Non mi ricordo più nemmeno che voce gli davo Beh, vedo che qui non è cambiato un granché Posso entrare anche se non sono una super sventola? Ok, facciamolo per sicurezza Se divento Bowser Eh, pervertito! Ti metto io a fuoco Ok, basta battute Salve Gino Leonte Sei di ritorno per comprare la mia Consitron Hightech? Visto che sei tu ti faccio una super offerta 999 monete, ti interessa? Eh, no grazie Ero già venuto Cosa? Come far? Fiorno a far fare la roba super rara Come vuoi tu, ma te ne pentirai A quel punto non mi troverai qui Son già passato di qui Oh dammit Ho anche usato un altro file Per essere sicuro di non esserci mai venuto Ma a quanto pare sì Allora vi faccio io la spiegazione Semplicemente quella dentro la gabbia È Consitron Una replica Quasi perfetta di Consiglia Che ha lo stesso Gli stessi poteri di Consiglia È la stessa personalità di Consiglia L'unica differenza è che è una versione robot Visto che la Consiglia vera O Farfalla Se n'è andata alla fine del gioco Se volete, rivolete Consiglia E penso che la rivolrete Visto che serve per alcune cose Se volete fare il 100% O se avete una qualche curiosità su qualche nemico Dovete portare al buon vecchio Gino Leonte Questo tirchiaccio 999 monete Io l'ho qua Quindi penso che la comprerò A questo punto Compro! Lo sapevo che non avresti resistito a un oggetto così Ai tec Ora possiedi l'unico esemplare di Consitron Dell'universo Sta fai giurando la voce Da Gino Leonte più la faccia Eccola qua La riproduzione di Consiglia Consitron Si unita al gruppo Yes! È identica a Consiglia Anche nel modo di parlare Bene Pronti a partire? No, se è identica Non dovrei fare la voce robotica Comunque ora avete di nuovo la sua funzione Tale quale L'unica cosa che cambia Vedete che la La finestra di dialogo Ha una forma un po' più Ha una forma diversa Bene Credo che questo sia tutto per questo extra Mi scuso se è così breve Ma davvero non sapevo dove altro metterlo Ci sono altri video extra Parecchi per Super Paper Mario Grazie all'attenzione E al prossimo extra Bro